Ciao a tutti e bentornati in Tessiland News. Quante volte vi siete trovati in questa situazione? Sto per fare un ordine sul catalogo Tessiland, arrivo al momento di inserire l'indirizzo e vi vengono mille dubbi. Perché ovviamente l'indirizzo che va inserito deve essere un indirizzo facile da raggiungere, ma soprattutto nel quale possa esserci sempre qualcuno disponibile e pronto a ricevere il pacco. Perché tutti possiamo avere degli imprevisti? Perché tutti abbiamo degli impegni lavorativi oppure familiari. Quante volte avete dovuto calcolare il giorno in cui effettuare l'ordine in modo tale che la consegna potesse avvenire esattamente in quel giorno oppure in quella settimana? Oppure quante volte, soprattutto per chi ha dei turni che possono cambiare di giorno in giorno, di settimana in settimana, inserire un indirizzo nel quale possa esserci qualcuno durante tutto l'arco del giorno è davvero molto difficile. Oppure magari la vostra abitazione si trova presso una strada che è un po' fuori città e che il corriere non sempre riesce a trovare e quindi il vostro pacco va in giacenza. Ebbene, c'è la soluzione a tutto questo, a tutte le problematiche che abbiamo elencato finora. E per risolvere vi basta un'unica, semplice, ma soprattutto gratuita, soluzione. Nel momento in cui, infatti, arriverete alla voce metodo di spedizione, vi basterà selezionare una spedizione che già il nome dice tutto. Infatti si chiama spedizione facile. Vale a dire che potrete selezionare un fermo point Bartolini presso il quale poter ritirare il vostro pacco. Come farlo? È semplicissimo e facilissimo. Vi basterà appunto selezionare questo metodo di spedizione, scorrere la pagina e compariranno tutte le attività più vicine all'indirizzo che avrete selezionato in precedenza. Vi basterà quindi poi cliccare sull'indirizzo a voi più agevole, cliccare su continua e concludere l'ordine. In questo modo, una volta concluso l'ordine, soprattutto una volta evaso, il vostro ordine verrà recapitato proprio presso l'indirizzo, presso l'attività che avrete voi stesse selezionato. E nel momento in cui arriverà riceverete un sms oppure una mail o probabilmente entrambe che vi comunicherà che da quel momento in poi, per i successivi dieci giorni, potrete andare a ritirare quel pacco. Sarà davvero molto semplice perché non dovrete più concordare orari che sapete bene non essere mai possibile. Non dovrete più organizzare le vostre giornate, non dovrete più chiedere favori, comunicare, mettere cartelli fuori casa. Eliminate tutto questo. Nel giorno e nell'orario a voi più agevole potrete recarvi presso quell'attività, mostrare il vostro documento di riconoscimento e in pochi secondi avrete il vostro pacco. L'unica opzione che vi consente di non poter selezionare questa spedizione è per il contrassegno. Avrete quindi finalmente trovato la soluzione ai problemi che finora vi siete posti per quanto riguarda proprio la consegna e il ritiro del vostro pacco con, e il nome dice tutto, la spedizione facile. Io vi ringrazio come sempre per averci seguito. Vi ricordo di iscrivervi sul nostro canale YouTube e di attivare la campanella così da essere costantemente aggiornati su tutte le novità Tessiland. Noi ci vediamo al prossimo articolo o alla prossima novità. Ciao!